a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono gabi io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esporici allora mister macarone macarone è un liquido los angeles california 70 30 alla vaniglia e marshmallow zero nicottina nicottina dietro c'è il disegnino dei biscottini quindi sarà dolciosissimo sono i liquidi che ci piacciono a noi cremosi da fumare l'inverno andiamo a fare la prova di svapo ea dare qualche conclusione a questo liquido vai gabi di riparo io andrò a ripare sulla rabbit con l'apocalips e io sulla hammer colguni 124 similare all'apocalips ci arriva verso il fuori dell'aria come ti sembra il liquido bello cremoso buono si sente subito il marshmallow e poi la vaniglia ma il marshmallow che non senti amaro come certi liquidi che senti l'amaro del marshmallow io lo sento che un zucchero per un zucchero di tt di tt di tt di pasta sarà buona 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 cremosissimo si è buono la vaniglia rimane il mondo molto si sente bene il marshmallow all day si all day buono che voto ci dai gabbi a questo io ci do un 8 anch'io un 8 una marca buona 60 ml 60 ml ora con la lige nuova andrà a costare il pacco noi l'abbiamo presa nel nostro negozio di riferimento da svappo caffè si trova la spezia marina di carara e molissara servite la possibilità di andare a trovare fateci un passo fornito di basi liquidi box atomizzatori tubi tutto quello che volete trovare lì lo trovate anche per iniziare a svappare è molto buono allora ricordate che abbiamo il canale su instagram la pagina ufficiale su facebook iscrivetevi al nostro canale se vi piacciono i nostri video siamo lieti di accogliervi da tavola d'orso apetù se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale un bacio ciao